I giovani, gli studenti hanno pagato un tributo altissimo a questa pandemia. L'aumento esponenziale di disagi psichiatrici e psichiatrici in questa popolazione è nella prova. L'aumento dei contagi e la diffusione di questa nuova variante rischia di portare ad una chiusura generalizzata della scuola e quindi a un doloroso ritorno alla didattica a distanza. E poi se domani, durante la cabina di regia, valuterete anche di prolungare il calendario delle vacanze natalizie alla luce dell'aumento dei contagi. La ringrazio. Grazie. La seconda domanda rispondo no. Non valuteremo questo domani. Il Ministro Bianchi è stato esplicito, mi pare, in una dichiarazione o stamattina o ieri in questa direzione. Sono consapevole della sofferenza che i giovani, e in meno anche i più giovani, hanno subito a causa delle restrizioni necessarie per contenere la pandemia. E, come ho detto, faremo di tutto per evitare che quell'esperienza si ripeta. Per questo, però, occorre prendere precauzioni. Precauzioni anche nella scuola. La prima cosa da fare è uno screening delle scuole. Su questo il generale Figliolo si è messo in moto. Se è necessario potenziare questo sforzo in varie direzioni, come credo sia necessario, lo faremo. Il secondo è testing, quindi testare continuamente. E la terza, però, ripeto, continuo a dire, è la vaccinazione. La vaccinazione di tutti e oggi anche dei bambini. Oggi anche dei bambini. Tutto questo è necessario, forse mi ripeto, per cercare di difendere quel poco di normalità che c'era stato.